Benvenuti cari appassionati, grazie per aver scelto di seguire con noi una delle sfide più attese di tutto il calendario calcistico. Non è certo un match per i deboli di cuore, basta ascoltare il clamore dei tifosi di entrambe le parti, qui sulle tribune. Ci troviamo di fronte a un conflitto fra due fazioni contrapposte da una rivalità senza fine. E in effetti questa partita nel corso degli anni e nel susseguirsi delle stagioni non ha mai perso la propria intensità. Per quante volte si siano scontrate queste squadre? Che complesso magnifico, è sicuramente un valore aggiunto allo spettacolo che ci attende sul rettangolo di gioco. Sugli spalti ha tutti gli effetti un amichevole. Ma in campo entra in gioco anche l'orgoglio di che non vuole perdere nemmeno una partita di briscola al pari. Beh, sappiamo bene cosa aspettarci da queste due squadre ogni volta che si incontrano sul rettangolo di gioco. La sconfitta è semplicemente un'opzione da non prendere in considerazione quando si affrontano i rivali di sempre. Prepariamoci a una partita tesa e frenetica, a prescindere dall'importanza delle poste in pari. E dunque, calcio d'inizio. Bani, cerca di pescare il compagno col filtrante. Borsolini. La gioca sulla destra. Ha provato a fare tutto da solo. La sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Sporzarello. Darmian. Ottengono una rimessa laterale. Ecco Kuczka. Poli. Stefano Densvill. Barrow. Soriano. Mostrano un buon controllo del gioco. Prova di andare via con le ragazze. Può metterla in mezzo. Barrow. C'è una certa differenza tra le due squadre in termini di possesso palla. Nessuna delle due però è riuscita a rendersi pericolosa. Soriano. Non poteva fare molto altro. Pony. Prova a prolungare. Pony. Ci ha provato. Non è riuscito a servire bene il compagno però. Bony. Entrambe le formazioni stanno giocando al di sotto dei propri standard ma basta un episodio per accendere questa sfida. Allarga il gioco. Grande movimento nello spazio. Ottimo intervento. Intervento difensivo molto tempestivo. Interreco l'azione d'attacco con una grande ripetizione. Credo che l'appollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la venuta flecchiglione. Palla lunga a cercare il compagno. D'Armiani. Ottima discesa sulla testa. Dosdi D'Armiani. Ci mettono a presa. D'Armiani. Passaggio troppo profondo. Palla pesca. Palla o lì. Palla o lì. Palla o lì. Bani. Spozzarella. La mettono in americù. Liceve il passaggio. C'è il numero. Vi siete appena sintonizzati? Beh, state tranquilli, non vi siete perso nessun gol. Ancora parità, 0-0. L'estrema difensore, la caccia lunga. Poli, cerca l'uomo là davanti. E' davvero una bella serie di passaggi questa. Lungo passaggio in avanti. Alassio, Cocovale, il rapporto è in fata. Si è aggiustato bene il pallone prima di tirare e poi è riuscito a insercare senza nessuna difficoltà. 1-0. L'albito manda tutti a prendere un teccato. Si chiude così il primo tempo. Le squadre escono da carta dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora l'unica. Hanno mostrato spazi di buon calcio e sono riuscite ad andare in vantaggio. Dovranno mantenere questo ritmo nella ripresa. 1-0 e siamo nell'intervallo. L'arbitro ha già fischiato l'inizio di questa seconda parte. Si trovano a dover amministrare un vantaggio di Mifo. L'allontana con forza. Approvato l'azione individuale, senza successo però. Gioca una palla lunga. Palasio si fa vedere per ricevere. Scozzarella. La mette sulla sinistra. Gervinio raccoglie un passaggio dalle retribie. E trova il compagno. In posizione per il cross. Troppa potenza per questo passaggio che se ne va via. Cerca il passaggio di tanto. Ecco il tiro. La storia anche in porta. Due gol di scarto per l'ora di avversario adesso. Doveva solo appoggiarla in porta. E' stato lasciato troppo libero. Si è inserito molto bene nello spazio. E ha concluso con freddezza. E si riparte da un 1-2-0. In questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Provano a partire in velocità. Passaggio sulla destra. Poli. Danilo ha capito tutto. Poli. Non può sbagliare. Sepe la toglie dalla porta. Grande salvataggio da parte dell'estremo difensore. Non ha sbagliato nulla. Ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Occhio al tiro. E anche stavolta niente di fatto. Incredibile. E' vero che i chissimi la raccoglie. Ma devono anche essere spiegati quando è il momento. Altrimenti si possono iniziare a demoralizzare. Non è lungo in verticale. Soria. Paolo. Ha la possibilità di andare verso la porta. E il portiere la fa sua. Vermian. Sprocati. Il discorso qualificazione sembra ormai chiuso. La tentazione di abbassare i ritmi della manovra è più che giustificata. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potremmo sfruttare questa azione? Ci mette. Costringe l'avversario al fronte. E' un fallo. Prova a fare tutto da solo. Barnellius. Si fa vedere? Bella barata! Grande occasione sprecata. Una grande occasione di tornare in partita. La loro delusione è comprensibile. libera tempestina. Libera tempestina. La giocata in profondità. Soriano. Ha già lasciato il segno oggi. Barro. Prova a verticalizzare. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Barro. Il suo pallone è morbido. Il suo pallone è morbido. Il post è cambiato dal difessore. Sarà calcio d'angolo. glaube a verticalizzare. Barro. Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. Quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. Resto convinto che avrebbe dovuto cambiare... Salto e colpio su di testa! E c'è ancora un gol! Vantaggio di tre reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Calcio d'angolo battuto benissimo, colpo di testa preciso. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. 3-0 dunque. Jacoponi. Grugman. Provano a ripartire da Dielra. Ecco la lavagna nominosa. Quattro minuti di recupero. Vani si è fatto trovare pronto. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Il tuffo è verso il portiere. Jacoponi. Bruno Alves. È tutto! L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Gara veramente a senso unico. Hanno letteralmente ridicolizzato la difesa passata. E tu cosa ne pensi della partita Luca? Sono stati bravi. Hanno fatto capire fin dall'inizio di volerla vincere questa gara. Partite come queste. La tecnica conta fino ad un certo punto. Conta più la determinazione. La personalità. La voglia proprio di vincere. Questa squadra l'ha dimostrato. Questa squadra l'ha dimostrato. Questa squadra l'ha dimostrato.